Buongiorno Bruno e benvenuto al nostro caffè. Buongiorno, grazie. E le emozioni, qual è il rapporto tra questi due enti, il cervello emozionale, l'emozione e il cervello cosciente? E' un rapporto molto interessante, se ci pensiamo un attimo, anche perché da psichiatri è forse uno dei rapporti che ci interessa di più. E su questo dobbiamo dire che le emozioni, i sistemi emozionali, i sistemi motivazionali sono studiati da decenni, non è che non vengono studiati. Ma su questo c'è una sorta di ambivalenza che è stata posta anche recentemente abbastanza da autori come le due ed altri, perché si tende soprattutto a studiare perché sono più studiabili. Ricordiamo, abbiamo parlato di inside out, le emozioni primarie scoperte dal psicologo Paul Eilkman, che però aveva scoperto delle espressioni microfacciali sostanzialmente. Le aveva indiegato a partire da questo, ed è giusto per carità e corretto, però non dobbiamo dimenticare che noi non siamo solamente comportamento. Anche quello che proviamo non è solo un effetto comportamentale, un correlato comportamentale che può avere un effetto sugli altri. Allora il problema è che le emozioni sono state per decenni studiate o solamente come correlati comportamentali e fisiologici, a tantissimi aspetti, se abbiamo l'attivazione cardiovascolare, elettrodermica e così via, oppure a un livello globale però confondendo quello che è l'aspetto esperienziale e quello che è l'aspetto dell'emozione di correlato non esperienziale. Molto studiore recentemente hanno messo in rilievo questo problema, cioè il ruolo delle emozioni. Se vogliamo il ruolo delle emozioni in quanto esperienze coscienti, la psichiatria non si occupa solo di emozioni, non solo di affetti ma si occupa principalmente di questo e quello che manca alla psichiatria è un correlato fisiologico che non è solo fisiologico ma deve essere anche mentale, deve essere anche esperienziale. Allora il problema è, ed è quello che non sappiamo tuttora, quale ruolo fisiologico o patologico dell'emozione, non in quanto correlati, non in quanto qualcosa che attiva tutta un'altra serie di funzioni, ma in quanto esperienze coscienti e questa è una cosa che tuttora non solo non sappiamo ma che ci chiediamo molto poco. Ed è un problema. A questo proposito ritorna il tema, pensando alle emozioni, della loro integrazione nel funzionamento della mente. Cioè, stabilito che la coscienza sembrerebbe essere, da quello che ci siamo detti in queste puntate, come dire, il nucleo centrale dell'essere vivi, ma le emozioni come si rapportano? Cioè, è la coscienza che provoca emozioni o sono gli stimoli esterni che provocano qualcosa che poi noi chiamiamo emozione e che va a impattare sulla coscienza provocando quindi una reazione? Ma questa è una domanda che ci si pone da più di cent'anni, insomma, no? Cioè, è il sentire, non so, il correlato, il cuore che ti batte, che ti fa provare qualcosa, o il provare qualcosa, o il vedere l'orso a cui stai fuggendo, no? Che ti fa provare qualcosa. Probabilmente il problema è che le cose sono assolutamente contemporanee, insomma, sì, sì, sì. Sono simultanee e si influenzano, no? Ah, Vicente, però il problema forse è più a monte, insomma, ecco, il problema è che noi comunque tendiamo ad avere, no? Una, anche in psichiatria, no? Quando studiamo certi aspetti del nostro funzionamento, un atteggiamento razionalistico, in qualche modo, imprivileggia la cognizione, anche, no? Si parla nella depressione, si parla di più, perché sono più facilmente studiabili, i disturbi cognitivi della depressione, i disturbi cognitivi della schizofrenia e così via. Sì, che sicuramente ci sono, ma probabilmente sono una conseguenza, un correlato di quelle che sono le alterazioni emotive e che non sono, che non vengono prima, che vengono dopo, che sono assolutamente simultanee. Però il problema è che è quello che è l'aspetto di fondo, anche evolutivamente, se ci pensiamo, no? Quello che ha cambiato completamente, radicalmente, il senso anche di tutti i mammiferi della loro evoluzione che è portato fino all'uomo è l'assetto emotivo, è l'assetto emozionale e affettivo della persona e dell'organismo. Ecco, però, scusami, quindi, conseguentemente, adesso mi fai venire in mente, ho fatto un'associazione e te la butto lì, in qualche maniera, mi sembra però di poter dire allora che le emozioni sono una parte costitutiva della coscienza. Sì, sì, sì. Cioè, in qualche maniera, il fatto di provare emozioni e anche di immaginare emozioni sono due concetti che sono strettamente correlati con l'idea della coscienza. Probabilmente non abbiamo ancora capito come funziona, ma rimane il fatto che senza emozioni non può esistere coscienza. Mi sembra di aver capito questo o sbaglio? Ma sicuramente, allora, diciamo che c'è una, la prevalente visione della coscienza in qualche modo corticocentrica e sicuramente c'è del vero in questo, no? Cioè, le esperienze coscienti sono associate a un'attività della corteccia, però ci sono accanto a quelle che abbiamo anche, di cui abbiamo parlato, no? Che sono le teorie prevalenti sulla coscienza, delle teorie che stanno emergendo sempre di più da parte di accuritori, che sottolineano il ruolo fondamentale e forse anche per ponderante nelle emozioni, nella coscienza. Uno di questi è uno studioso sudafricano, è Mark Solms, che ha avuto anche, ha avuto delle esperienze di vita, cioè un trauma che ha colpito il suo fratello, per cui si è poi dedicato, è tra l'altro un personaggio un po' particolare, perché lui è un neuroscientiato, un neurofisiologo ed è contemporaneamente uno psicoanalista. quindi ha una cultura che cerca di abbracciare questi ambiti, no? Ecco, lui, contrariamente a quella che visione forse preponderante della coscienza, vede infatti il suo libro si chiama La fonte nascosta, la fonte principale in qualche modo della coscienza, non nella neocorteccia, ma nel tronco cefalico, che poi è la struttura da cui originano tutti neuromodulatori che noi sappiamo essere implicati nelle nostre emozioni, nei nostri affetti, nelle nostre pulsioni e così via, nelle nostre spinte, no? E lui dice che, appunto, le emozioni sono quelle che servono per contrastare l'entropia e per, in qualche modo, mantenere l'omeostasi dell'organismo. Una cosa importante, no? E qui si differenzia, per esempio, da Freud, che lui vede il ruolo cosciente delle pulsioni, delle emozioni, cioè hanno un'importanza come entità che sono di fatto coscienti. Una delle cose, secondo me, più interessanti di quello che dice è che l'emozione magari ha differenza da quelli che sono gli estinti che ci fanno o che fanno negli animali meno evoluti, no? Attivare un certo tipo di comportamento, per esempio, quale è la differenza fra la fuga e la paura, no? Cioè, probabilmente la fuga è un comportamento stereotipato che ha già in sé la soluzione dal problema, cioè l'allontanarsi dal pericolo. Nella paura, quello che predomina è l'incertezza e l'imprevedibilità, no? L'emozione è qualcosa che, in qualche modo, si manifesta nel momento in cui abbiamo da affrontare una situazione incerta e questo potrebbe essere un aspetto molto importante, no? In quello che è il ruolo fisiologico delle emozioni. Un altro autore? Prego, prego. Un altro autore che, e lo sappiamo, che si è occupato molto di emozioni e effetti a partire dal marcatore somatico che ha scritto molti libri su questo e molti di noi lo conoscono bene, è Damasio, no? In cui, per esempio, l'ultimo libro che ha scritto, che è un po' un piccolo compendio di tutte le sue pubblicazioni, no? Lui che si chiama Sentire, Conoscere. E su questo va fatta anche una precisazione linguistica perché lui usa il termine feeling per sentire, no? Che è qualcosa che in realtà, no? Si colloca un po' a metà fra quello che sono le sensazioni e quello che sono i sentimenti. È intraducibile in maniera esatta in italiano. Però è un qualcosa che noi proviamo comunque che sicuramente ha ancorato in termini di piacere e di piacere. Lui, per esempio, porta avanti una tesi abbastanza, se vogliamo, controversa, però molto stimolante. Cioè, Damasio dice che, per esempio, tutto ciò che noi vediamo, il film che ci si proietta davanti alla nostra mente, no? Non sarebbe la percezione visiva, ma non solo visiva, non sarebbe di per sé cosciente. Non sarebbe di per sé cosciente se non fosse, no? In qualche modo associato al provare qualcosa, alle emozioni che ovviamente sono a sua volta associate, a loro volta associate a un senso di sé. Allora, qual è la differenza? Perché la differenza è che le percezioni, la visione ci dà un'immagine di quello, una rappresentazione di quello che è il mondo. Le emozioni, il sentire, il feeling ci dà una rappresentazione di quello che è lo stato del nostro corpo, è lo stato, similmente a quello che diceva Solms, no? Della nostra omeostasi. In qualche modo, se noi, la nostra omeostasi è minacciata, si attivano le emozioni per ripristinarla, per ripristinare la fame, la sete, il desiderio sessuale, per ripristinare il bisogno di amicizia, il bisogno di successo, il bisogno di essere accettato dagli altri e così via, no? E quindi sono questi gli aspetti che denotano la coscienza. È quello che fa una sorta di voto, una sorta di valutazione che viene fatta, no? Su quanto noi ci discostiamo dall'omeostasi, quindi dal successo di sopravvivenza al successo riproduttivo, è dato dal voto, fra virgolette, no? Che noi diamo in termini di piacere o di spiacere a quello che ci sta capitando, no? E poi aggiungiamo che le emozioni non sono solo una valutazione, ma sono anche una spinta, no? In termini di Freudiano e di Repulsione ad ottenere in qualche modo, no? Quello che noi vogliamo ottenere, quindi forniscono sia l'incentivo, l'impulso ad agire in una certa direzione, sia una valutazione di quanto sta succedendo. E quindi dal punto di vista sono fondamentali. Ecco sì, ma mi viene in mente anche alla luce di quello che parla, concludendo, come ultima domanda. Io sento nelle tue parole una sorta di percorso evolutivo che in qualche maniera ha fatto sì che l'istinto diventasse emozione, ma partendo però dalla stessa base, cioè è come se l'istinto continua a esistere, ma negli esseri più evoluti diventa in realtà emozione. Ma sotto ci sta l'istinto, cioè l'istinto esiste anche nell'uomo, solo che a differenza dei miei gatti, in noi prevale l'emozione, nel gatto prevale in certi momenti l'istinto, anche se essendo animali molto umanizzati sembra che, non è che io riesco a fare una chiacchiera ben precisa con i miei due Maine Coon, però in qualche maniera sembra che abbiano delle emozioni, però in realtà sono esseri fondamentalmente istintuali, in cui se l'istinto viene fuori prevale, in noi invece l'istinto non prevale. In qualche maniera mi sembra di capire che questo deriva, cioè l'evoluzione del nostro cervello, della nostra coscienza è nata nel momento in cui noi abbiamo cominciato a provare emozioni, giusto? Probabilmente sì, c'è una vecchia teoria che è quella di McLean, del cervello trinio, che è stata anche molto controversa e anche non accettata, insomma qualcuno dice che il cervello rettiliano, il cervello limbico, il cervello neocorticale, tanto che qualcuno dice in effetti che i rettili non hanno il cervello rettile, però questo passaggio effettivamente se vogliamo fare una sintesi forse un po' grossomana, ma per capirci, dal funzionamento basato sugli istinti, al funzionamento basato sulle emozioni, sugli affetti, al funzionamento basato anche sul ragionamento, sul linguaggio, su tutte quelle cose che caratterizzano la nostra esistenza o primati più evoluti o di umani, è un aspetto dell'evoluzione degli organismi sicuramente. Cioè l'istinto, se vogliamo metterlo da un punto di vista anche computazionale, è un altro che un programma, un programma che può essere più o meno complesso, che si attiva in certe situazioni. Allora l'unico istinto in quanto programma efficace e completo dell'essere umano è quello dell'elettamento. Dopo che cosa succede come dici tu? Probabilmente gli istinti in qualche modo permangono, ma sono in qualche modo incompleti, sono delle regole che ci guidano e l'emozione è ciò che ci dice se noi rispettiamo certe regole. Pensiamo a uno degli istinti, perché viene visto anche in questo modo uno degli istinti più evoluti che noi abbiamo, quello del linguaggio. Le regole sintattiche non sono in nessun modo sufficienti a farci parlare, tanto che sappiamo che il linguaggio è una cosa differente da cultura a cultura ed è appresa, però le regole, fra virgolette, lasciatemi passare questo termine, istintuali del linguaggio sono quelle che ci guidano a organizzare il linguaggio in un certo modo ed è stato dimostrato anche da Cionsky e da altri autori che vanno al di là di quella che può essere una mera esperienza associativa. Concludendo, mi colpisce questo ragionamento che tu hai fatto sulle emozioni come un qualcosa di più elevato, più aggregativo rispetto all'istinto che invece è qualcosa di più semplice, di più primordiale, di più moto neuronico, on off. C'è da dire che noi però l'istinto ce l'abbiamo, ribadisco, e conseguentemente a volte può venire fuori. Il vero problema sta nel regolare le nostre pulsioni istintuali e a volte si ha l'impressione che certi comportamenti dell'uomo possono essere compresi ragionando in termini di regressione a una vita istintuale, la sopravvivenza, per esempio gli aspetti dell'aggressività, che spesso secondo me hanno a che fare non già con emozioni superiori e con la nostra famosa coscienza, ma con l'emergere di comportamenti istintuali che proprio per il loro on off provocano delle reazioni immediate. Condividi? Sicuramente sì, io penso che anche la nostra civiltà, la nostra cultura è stata un'espressione in qualche modo di dover controllare quelle che erano vissute come pulsioni primordiali, come primitive, come inaccettabili. Forse anche la teoria di Freud si muove in questa direzione, c'è un contrasto fra cultura, fra civiltà, emozioni primordiali e pulsioni primordiali e istinti, il problema è probabilmente come per tante cose, riuscire a integrare questi aspetti, riuscire a capire che tutti questi aspetti da quelli istintuali a quelli emozionali a quelli più evoluti fanno parte di noi. Certo, e in qualche maniera il fatto che facciano parte di noi, concludendo, è avere una coscienza. Sicuramente, la coscienza è il mediatore. Esatto, è il punto centrale. È il povero mediatore, potremmo dire, perché ci soffre in questa, nella sua visione che è giocoforza unitaria e integrata, ci soffre di tutte queste divaricazioni, perché se pensiamo, se pensiamo a uno dei sentieri che portano all'io, alla persona, al senso di sé, un animale meno sviluppato agisce, è un istinto o un altro istinto, in un certo senso, in cui in un certo momento sta brucando l'erba, in un altro momento sta corteggiando il partner, in un altro momento sta fuggendo al leone e così via. E sono diversi. Noi in qualche modo sì, viviamo un certo tipo di situazione, un certo tipo di emozione, però anche le integriamo, in un senso di sé che è complessivo unitario e la coscienza ci fa vivere comunitaria questa cosa, il senso della nostra persona centrale ci fa vivere, ci rende un aggregato molto più che in animali meno sviluppati anche di emozioni e di affetti. Che è il bello della vita. Sicuramente. Alla prossima Bruno, grazie. Grazie, grazie a te, grazie a tutti.